Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, una buona giornata di vigilia derby a tutti e a tutte, ovunque voi siate, iscrivetevi al canale, un bel like al video, i vostri commenti e la campanella per essere raggiunti e raggiunte, ovunque voi siate, perché voi siete ovunque, i tifosi della Juve sono milioni di milioni, ecco perché è facile attaccarla, dileggiarla con continuità e con costanza senza avere il men che minimo di risposta. E allora, a chi tocca a questo giro? A questo giro tocca a tanti, c'è il derby di Torino, vuoi non mettere un eurodeputato irlandese dal nome variopinto, Wallace, cosa vi ricorda Wallace? Wallace, 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 prima arte il film per chi l'ha visto, però sta parlando al Parlamento Europeo e cosa dice indossando la maglia del Toro? Forza Toro e Juve e Juve M, tanto ma Juve M è sdoganato, è un po' come all'asilo, ricordate quando eravamo piccolini? Si diceva sempre così, Forza E e l'altra squadra M, peccato che lì siamo all'Europarlamento, siamo al Parlamento Europeo, diciamo tanto di quello italiano, ma se l'esempio d'Europa è questa roba qua, siamo messi bene. E ovviamente non poteva mancare una spruzzatina di agroppi, perché un po' che ci mancava quel sale lì sul derby, gli arbitri servi della Juve, aleee, poi proprio contestualizzato bene, diciamo, annata precisa perfetta, e un po' di birraiolo messicano, anche quello un po' sparito, che dice che il calcio scommesso, attenzione, non è finito, però va così quando ci rimezza la Juve. Certo, oioioi, oioioi, chissà come mai ci siamo di mezzo sempre soltanto noi, sì, però intanto mentre ci siamo di mezzo noi abbiamo un giocatore squalificato. Gli altri? Perché se non è finito potrebbe riguardare altre squadre, mi viene da pensare, non lo so, io non so niente, sono tutte illazioni, però qui è come dire che quando c'è la Juve non si approfondisce, in realtà la Juve è l'unica alla fine, come sempre, perché ha pagato, attenzione, che Fagiolino da una parte e Pogba dall'altra, di cui ancora non è finita la vicenda, sono i due centrocampisti di qualità che la Juve non ha avuto quest'anno, quindi l'anno zero, tanto descritto bene nella lettera agli azionisti da parte di John Elkan, magari sarebbe stato un anno uno, e non proprio un anno zero, non si sa, anche qua non c'è la controprova, però viene facile da pensare di sì. Siamo nel post lettera agli azionisti e c'è stata grandissima discussione anche da parte vostra, e allora io, prima di andare velocissimamente sul derby di Torino, un piccolo ragionamento assieme a voi lo devo fare. Allora, qual è stata l'interpretazione massima di questa lettera agli azionisti di John Elkan? è che non avendo mai nominato Allegri, ma avendo indirezzato le sue attenzioni su Giuntoli, come la figura di riferimento della Juventus, che deve ricostruire questa squadra, è un po' come aver salutato Max, in primis perché non lo ha nominato, e in seconda battuta perché da tutto a Giuntoli non è più la Juve di Max, è la Juve di Giuntoli e Giuntoli contro Max. Ci sta, dal punto di vista giornalistico e del commento, della chiacchiera, ci sta. Però ci sono due cose su cui bisogna riflettere. La prima, questa è una lettera agli azionisti, e quindi è una lettera aziendale, non è una lettera sportiva. Anche l'anno scorso nella lettera agli azionisti, sono andato a rileggermela, parla delle nuove figure arrivate, Ferrero e Scaravino, parla di Allegri. Dopodiché, in più di una circostanza, dà alla figura di Allegri quello che è il riferimento sportivo come caposquadra. Direttore tecnico è una cosa, il riferimento sportivo della squadra è un'altra, è l'allenatore, ma non soltanto alla Juve, da tutte le parti. Quindi questo non fa testo. La seconda è che appunto la lettera agli azionisti è una lettera aziendale, quindi infatti i riferimenti sono a frasi di Marchionne, piuttosto che alla storia della Juventus e della famiglia Eccan Agnelli, ha citato Edoardo Agnelli, cioè, in fin dei conti, la lettera aziendale detta agli azionisti, spiega agli azionisti, comunica agli azionisti quella che sarà l'azienda e come si muoverà l'azienda nel futuro ravvicinato e quindi a partire dai prossimi accadimenti. Ecco che quindi indirizza, sempre Ferrero Scanadino, per quello che riguarda la lotta fuori dal campo e il direttore tecnico Giuntoli come ricostruzione sul campo della squadra e in contemporanea le due parti devono operare per la sostenibilità. Quindi, soldi dal punto di vista aziendale, da risparmiare, da parificare e ambizione dal punto di vista della squadra affidata a Giuntoli, con quello che già abbiamo visto nell'ultimo contenuto, cioè la sostenibilità ai giovani, eccetera. Che cos'è? Qual è più che altro? Qual è la novità? Nella lettera che John Elker manda agli azionisti, che è una lettera aziendale, quindi di figure dell'azienda dal punto di vista della gestione, non c'è ovviamente un riferimento pratico, sportivo, ma c'è una linea guida. Qual è la novità? La novità è che lui fa una sottilissima distinzione su quello che era la scorsa estate e quello che sarà, che però è la partenza nuova della Juve, e cioè indica nella figura di Giuntoli, direttore tecnico, quest'anno, in questo prossimo mercato, l'operatore principale della Juventus che verrà. Mentre in questa stagione definita anno a zero, lui era appena arrivato dal Napoli. Sottolinea ECA, che tra l'altro ricorda che è stato premiato come dietro sportivo per il lavoro fatto al Napoli, quindi è un po' come se Giuntoli avesse vissuto un anno di ambientamento, come i giocatori, come i giocatori. Conto il Napoli, conto la Juve, con le dinamiche, i partiti, sembra di lavorare, operare in politica, quando si è dentro una società grossa come la Juve. Insomma è così poi alla fine, è così. I partiti grossi, i partitini, l'orticello, i vasi comunicanti, insomma le dinamiche aziendali sono meravigliose a saperle. E quindi adesso è la Juve di Giuntoli. Ora, che questo si traduca in un saluto al Max, e cioè che Giuntoli è contro Max, può essere anche questo corretto dal punto di vista della sintesi giornalistica. che in realtà sia così, come io vi dico da tempo, che non vuol dire che Allegri rimanga la prossima di attenzione, ma come vi dico da tempo, dagli ambienti societari non fanno trapelare questo, anzi, quello che si evince è che la decisione non è ancora stata presa. E attenzione che non è giuntoli la parte operativa decisionale della Juve che è sempre stata contro Max dal punto di vista della dialettica. Anzi, stanno facendo un percorso con questa squadra nuova di crescita insieme. E in più di una circostanza, prima delle partite, le dichiarazioni di Giuntoli sono sempre stati di soddisfazione sul lavoro di Allegri che a fine campionato si sarebbero seduti per programmare il futuro. Poi, certo, si può anche dire, e ci sta, che sono parole di circostanza, che deve dire così, eccetera, eccetera, eccetera. Però di fondo no, non sono parole di circostanza quelle di Giuntoli. Ci crede veramente. Ora, ora, bisogna capire se, una volta raggiunto l'obiettivo, anzi, come ha detto Gatti oggi nella sua intervista, super telegattone, due obiettivi, centrale della Champions e la Coppa Italia, quando si sederanno, ammesso in un concesso, che si sederanno a un tavolo delle trattative o delle spiegazioni, se Giuntoli e Allegri la vedranno allo stesso modo. Come devono vederla Giuntoli e Allegri o chi sostituirà Allegri allo stesso modo? e, come ha indicato, John Elkhart. Quindi, facendo un mercato magari diverso da quello che vorrebbero fare, tradotto, vuoi prendere Zirkze? Devi vedere Vlaovic. Vuoi prendere un grande difensore? Devi sacrificare Bremer. Perché la linea del pareggio di bilancio va verso questo indirizzo. Ecco perché è fondamentale la lettera degli azionisti che ci spiega quanti saranno i soldi a disposizione del direttore tecnico. Perché adesso, in base a questo ragionamento che Giuntoli farà, prenderà anche la scelta verso l'allenatore. A lui conviene assolutamente tenere o prendere un nuovo allenatore che la pensi allo stesso modo e non che magari faccia le bizze due giorni dopo dicendo ma non mi hai preso questo, ma questa squadra non è all'altezza. come abbiamo visto in tantissime altre piazze. Quindi, se l'incoronazione di Giuntoli da parte di Gionelka si tradurrà in un saluto a Massimiliano Allegri, è ancora presto per dirlo, ma tra poco si saprà. Ancora una decina di partite. E poi tutto. Sarà chiarito. Attenzione che Gatti è pronto per il derby e dice due cose fondamentali. La prima è che sta cercando di convertire la sua famiglia Granata, che è il babbo ormai ma anche allo stadio della Juve. Vedi che poi, quando ti avvicini, respiri l'aria bianconera, capisci un po' come funziona il mondo e tutti vengono a Canossa, ma la seconda è quella che anche qua predico da una vita, è il VAR. Lui non è che dice no VAR, però lui dice io mi gaso con il pubblico, con le emozioni, il calcio antico dove un difensore insieme al pubblico trascinato può fare gli interventi e soprattutto davanti a un monitor, al VAR, il braccio più sul braccio più giù, sarà anche oggettivo, ma non corrisponde all'entità dei contatti e dei movimenti della realtà. Questo non è più calcio, ma è un calcio VAR. Iscrivetevi al canale, like al video, commenti e campanella.